In Italia ci sono 5 carceri femminili e 52 sezioni per donne all'interno di prigioni maschili. Ero paranoico, arrabbiato. In un certo senso mi divertivo. Non so perché, no. E ho corso, più che potevo. Ero davvero convinta che quel giorno sarei morta. Ancora oggi posso solo piangere. Ho subito pensato, questo caso mi perseguiterà fino alla pensione. Grazie a tutti. Con fantastici nuovi episodi Benvenuti in Sicilia Lì c'era una mitragliatrice Quanto tutte e due? 70 Arriviamo! Grazie a tutti!